Tra l'altro fra un po' arriverà anche il suo leader Renzi, a cui dovrò fare una serie di domande perché sa come ho pensato, cosa ho pensato mentre preparavo un'intervista con i miei autori che Renzi è diventato il grande vecchio della politica italiana, però ha solo 46 anni quindi è un grande vecchio un po' particolare, però diciamo che le grandi mosse politiche le fa lui per il momento Senta, migliore, lei che ne pensa? Anche perché si federa la centrodestra, pare, si dice Dall'altra parte, Conte oggi ribadisce nell'intervista che lui col PD ci rimane addirittura secondo il messaggero starebbe pensando a uscire dal governo al mese di agosto per poter avere le mani libere durante il semestre bianco, però col PD vuole dialogarci e come bisogna fare anche questa federazione di centro forse per poter esistere e dire qualcosa con Calenda e vari altri? Ah pure la russa è arrivato, questo mi deve spiegare che dice Giorgia, il no grazie di Giorgia Sento migliore e partivo dalla russa Con la russa non credo che faremo mai una federazione, ma adesso a parte le battute io penso sinceramente che la proposta che ha avanzato Salvini è che vede delle resistenze evidentemente, magari non di mezza Forza Italia, ma probabilmente ci sono delle resistenze diffuse è una mossa difensiva perché in qualche modo sente la concorrenza, ma questo mi sembra evidente di Giorgia Meloni e della crescita di quel partito nei sondaggi. Mentre invece su Conte io faccio solo un'osservazione in maniera molto poco polemica, se in questi 4-5 mesi non è riuscito a prendere la guida di un partito che era il partito che lo invocava come leader, come guida come Deus ex machina, figuriamoci se fosse rimasto al governo questa indecisione dove ci avrebbe portato per fortuna invece stiamo parlando di 600 mila vaccinati al giorno, stiamo parlando di un PNRR che è molto cambiato e che va nella direzione giusta. In questo senso io mi sento, come altri credo, al di là delle formule delle federazioni eccetera, in un processo che sta rivoluzionando la politica, ma questa rivoluzione, è bene ricordarlo, ha un nome e un cognome, si chiama Mario Draghi. Il fatto che Matteo Renzi abbia dato il contributo determinante per arrivare a Mario Draghi e che consentirà di finire la legistratura. Al governo Draghi ce l'abbiamo portato noi. Il presidente della Repubblica Europeista secondo me è un grande risultato. E io fin qua la seguo, però poi sotto questo grande ombrello che si chiama Mario Draghi, la politica è in ebollizione e questo è un po' il tema di stamattina, no? Stanno capitando cose, sta cambiando lo scacchiere politico. Ma è chiaro, c'è una rivoluzione in atto. Esatto, trasformazione in atto. Ma c'è una rivoluzione in atto e secondo me la cosa più interessante è il fatto che molti si stanno mettendo in relazione o in contrapposizione o in relazione positiva proprio con questa idea di Draghi, di trasformare il paese in senso pragmatico, liberale, europeista, atlantista. E questa è una visione interessante, ci dice migliore, in realtà la bussola sarà Draghi chi sta con Draghi e chi non sta con Draghi. Questa sarà la grande bussola. Ok, chiaro.